Il primo giorno si sono presentate già più di 230 persone, ieri pure l'afflusso è buono, 220 persone. Sono già 450 gli insegnanti e gli operatori degli istituti scolastici vicentini che si sono presentati allo screening volontario lanciato in tutto il Veneto. E il servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulsotto a seguire l'andamento dei test partiti a Vicenza alle scuole medie Mainardi e Calderari. In questi primi due giorni sperimentali di avvio dell'esperienza ha aderito più o meno il 70% degli insegnanti nell'accesso scolastico. Dobbiamo ancora avere i dati però per quanto riguarda l'accesso dei medici di base, possiamo anche immaginare che il restante 30% si sia rivolto ai medici di base. In effetti la raccomandazione dell'azienda sanitaria agli insegnanti è quella di rivolgersi al proprio medico di base. Una certa quota di medici di base ha aderito al progetto per la sierologia per cui può sottoporre i propri utenti insegnanti alla sierologia. Nel caso il medico non aderisse ci sono appunto i punti di appoggio per la sierologia nei vari istituti scolastici. Cinque in tutto gli ambulatori allestiti nelle scuole dell'Ulsotto, non solo a Vicenza ma anche a Montecchio Maggiore, a Valdagno, a Barbarano. Circa 10.000 ai lavoratori potenzialmente interessati. Io raccomanderei l'adesione è anche un piccolo atto di responsabilità in vista di questo impegnativo momento per tutti, sanitari, società, mondo scolastico, famiglie, che riguarda appunto la riapertura dell'anno scolastico. Grazie. 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 Grazie.